Ciao, sono Zane di Turbola.it. Oggi è l'11 luglio 2018 e queste sono le novità principali in campo criptovalute registrate oggi. Dunque, oggi non è stata una buona giornata per quanto riguarda l'andamento delle criptovalute e di Bitcoin. In particolare abbiamo assistito ad un calo abbastanza drastico rispetto ai livelli che avevamo registrato nei giorni scorsi. Ovviamente questo invalida un pochino la teoria secondo cui avevo esposto nei giorni scorsi verso cui si stava andando verso un mercato in crescita anche se potrebbe essere semplicemente qualcosa di fisiologico nel senso che comunque abbiamo assistito per molti giorni ad comunque un assestamento dei movimenti laterali di Bitcoin e del movimento delle criptovalute comunque stava andando verso la crescita. È possibile certamente che attorno al valore dei 6.800 dollari gli investitori, soprattutto quelli che erano riusciti a entrare recentemente sotto i 6.000 dollari verso i 5.800 che avevamo raggiunto appunto nei giorni passati abbiano deciso di portare a casa un po' del valore che avevano guadagnato. La cosa importante sarebbe adesso riuscire a di nuovo trovare un supporto per poi cominciare a ripartire. C'è da dire che non solo Bitcoin ovviamente sta soffrendo anche se Bitcoin chiaramente guida tutto il mercato ma le criptovalute alternative quindi da Ethereum a tutti gli altri hanno subito probabilmente la botta un pochino più forte. In particolare se guardiamo tutti quelli che ci sono in caldo notiamo che ci sono molti player che stanno subito una perdita in doppia cifra in particolare qui Noto Icon ad esempio Ottimo Progetto ha perso quasi il 12% quindi sicuramente una botta importante. Gaz che viene appunto attribuito ricordiamolo e distribuito a tutti i possessori di NEO ha perso anche lui quasi il 12%. Ci sono molte altre criptovalute che oggi veramente hanno perso con un segno meno in doppia cifra. Ne stanno dando notizia un pochino tutti i quotidiani specializzati sull'argomento da Cointelegraph che propone appunto questo scivolone gigante con il personaggio che scivola verso il basso. Questa visualizzazione è appunto quanto hanno perso le criptovalute nella giornata odierna c'è stato appunto del rosso diffuso su tutti quanti. L'unico a salvarsi appunto è stato questo XTZ progetto che non conoscevo e che è appunto è partito appunto con la loro beta in questi ultimi giorni e quindi hanno riuscito a guadagnare il 2%. Anche Coindesk nell'analisi tecnica proposta dal loro editorialista traccia appunto una situazione non certo incoraggiante in particolare si accenna alla possibilità che possa esserci una nuova discesa anche se fondamentalmente in questo momento come vedremo dopo non vedo indicatori particolarmente forti né in un verso né nell'altro. Se devo sbilanciarmi mi attendo una fase di lateralizzazione ancora per i prossimi giorni che poi mi aspetto che riporti verso i top dei giorni scorsi. Sono uscite un paio di notizie negative in particolare qualche giorno fa uno dei alcuni esperti di economia classica e di finanza tradizionale hanno detto che Bitcoin fallirà e arriverà addirittura a soli 100 dollari perché verrà regolamentato talmente tanto che risulta e perderà molto del suo appeal e molto degli aspetti positivi quindi la possibilità di trasferire in modo pseudo anonimo e via dicendo. Quindi appunto l'opinionista dice che questo è dovuto appunto dalla fase di regolamentazione che seguirà a breve. Ci sono novità anche sul fronte Bancor di cui avevamo parlato ieri sono stati rubati addirittura 23.5 dicevamo ieri milioni di dollari a quanto pare sono già stati scambiati immediatamente tramite changely.com quindi un exchange di quelli che ho citato anche su Turbola.it che consente di scambiare cripto in pecunia tradizionale quindi moneta fiat sono già stati scambiati e i ladri se li sono già portati a casa. A questo punto Bancor chiede la collaborazione un po' di tutti i player del settore per cercare di risalire all'identità di chi appunto ha svolto questa performance da l'UPN del nuovo millennio. Per quanto riguarda un po' le altre opinioni che ho raccolto in rete è sempre interessante i servizi che fa CNBC in particolare hanno coinvolto un paio di persone che sono dei bitcoin maximalista appunto sul reddit delle criptovalute ci si lamentava che la puntata di oggi appunto di CNBC parlavano molto bene di bitcoin a discapito di tutte le altre cripto in particolare anche qui vengono adotte un paio di motivazioni per la crescita precipitosa di oggi ma non sembrano esserci nulla di critico, nulla di fondamentale si parla addirittura di un semplice ritracciamento quindi gli opinionisti che ho sentito qui nel servizio del CNBC non sono particolarmente preoccupati in effetti se andiamo a vedere come sta andando il grafico del bitcoin bitcoin conto dollari per le ultime giornate vediamo che oggi c'è stata sicuramente una innegabile candela rossa quindi siamo sicuramente abbiamo subito, abbiamo perso molto valore però di nuovo vediamo che la media mobile dei 21 giorni quindi quella che ci dà l'andamento sul brevissimo periodo sembra aver svolto un pochino il ruolo del supporto vediamo se riusciremo a rimbalzarci sopra in caso si riuscisse già da domani magari a vedere una bella candela verde che ci riporti sopra la media mobile dei 21 sta facendo effettivamente sta svolgendo effettivamente il ruolo del supporto e quindi ci aspettiamo che se veramente potesse rimbalzare sarebbe quello che gli analisti chiamano un false breakout e quindi probabilmente potremmo assistere sul breve periodo ad un nuovo mini rally mi aspetto comunque che non ci sia niente di particolarmente acceso nel brevissimo periodo anche la RSI punta verso il basso quindi siamo ancora in questa fase come dicevo qualche giorno fa intermedia in cui non è ben chiaro se siamo verso l'iper venduto o l'iper comprato in questo momento non c'è un'indicazione chiara se non che appunto la punta qui della RSI va verso il basso quindi in questo momento notiamo un atteggiamento piuttosto bearish quindi abbastanza discendente c'è da notare però incoraggiante guardare qui sotto la riga blu rimane sopra a quell'arancione è un indicatore sempre positivo fino a quando non si scambieranno non c'è un imminente e forte segnale di cambio e di precipitazione diciamo dei prezzi incoraggiante anche guardando i volumi sebbene siano comunque un pochino superiori rispetto ai giorni scorsi zoomiamo un attimo fuori e vediamo che i volumi rimangono comunque estremamente bassi questo è un buon segnale molto incoraggiante perché significa comunque che gli investitori non ci stanno andando giù pesante vendendo bitcoin come se non ci fosse un domani ma si tratta probabilmente solo di una correzione ovviamente potrei sbagliarmi però questo è quello che francamente vedo guardando i grafici e leggendo un pochino tutte le opinioni anche perché se vogliamo trovare il motivo del crollo di oggi se non qualcuno che appunto porta a casa i profitti non ho trovato niente di veramente sensazionale o di veramente pesante anzi ci sono un paio di notizie molto buone in particolare Sergey Brin di Google dice di essere un minatore di Ethereum quindi il capo di Google nel suo tempo libero visto che forse non lo so non ha abbastanza soldi vuole portare a casa qualcos'altro sta minando Ethereum scherzi a parte ovviamente mi aspetto che il motivo per cui lo sta facendo non sia tanto di natura economica ma più che altro per lo studio e la valutazione di questa tecnologia però diciamo che se il cofondatore di Google crede in questo mondo delle criptovalute lascia ben sperare appunto per il futuro un'altra buona notizia è il progetto Augur spero di dirlo bene si tratta di fatto di una piattaforma per scommettere su qualsiasi cosa è stato in beta per due anni e finalmente oggi hanno varato il lancio della piattaforma in fase pubblica si tratta di fatto di una piattaforma di scambio se ne parlava molto nei giorni scorsi funziona scusate una piattaforma di scommesse perché permette di scommettere come dice qua l'articolista un po' su qualsiasi cosa qualsiasi evento del mondo reale senza le tante complessità e tanti costi che di solito si incontrano quando si fanno scommesse di questo tipo sempre rimanendo in campo di notizie positive segnalo anche NIO appunto che ha postato alcune novità di nuovo come dicevo ieri si sta parlando con insistenza di NIO 3.0 nuova versione del protocollo e di tutta la loro infrastruttura che lascia ben sperare per il futuro peccato che questa notizia sia arrivata appunto in una giornata in cui abbiamo assistito a un drastico crollo del prezzo di NIO perché comunque è una buona notizia molto positiva perché vuol dire che la tecnologia anche in questo caso va avanti un'altra buona notizia oggi ci sono state tante buone notizie quindi ed è ancora più difficile capire perché dei prezzi e quindi come dire mi convinco sempre di più che sia stato un semplicemente qualcuno che ha portato a casa i profitti comprati a 5.800 o sotto nei giorni scorsi un'altra buona notizia è che appunto la School of Economics di London quindi è un istituto molto prestigioso sta introducendo un nuovo corso di studi appunto per le criptovalute quindi se non altro è un segnale che c'è interesse e c'è appunto una certa di legittimazione anche da parte degli istituti che si occupa di formazione e di insegnamento per blockchain e tutto quello che ci gira intorno quindi di nuovo un'altra buona notizia bene da Zana di Turbola.it è tutto come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di fare mi piace ricordatevi sempre di iscrivervi cliccando anche sul campanello per essere informati su tutti i nuovi video che pubblico bene ci sentiamo al prossimo video allora ciao a tutti